carissimi amici sparsi per il mondo carissimi amici sparsi per il mondo sarebbe bellissimo riuscire a scrivere una novella che possa entrare nel decamerino e vi ringrazio molto di avere pensato anche a me per la vostra banda in fuga dalla peste ognuno in una stanza chissà dove non sono però sicuro di riuscirci anzi al momento lo ritengo praticamente impossibile in questi giorni di appartamento la casa con due bambini piccoli tommaso e arturo che a maggio avranno otto e sei anni è diventato un flipper le palline anche i genitori si sono trasformati in piccole biglie di metallo corrono all'impazzata nello spazio chiuso e sbattono da tutte le parti ma più che gli urti o le ammaccature sono i rumori i fischi i trilli che rendono la casa un unico trambusto festoso certo ma non esattamente adatto a quella calma un po' prolungata che ci vorrebbe permettersi a scrivere tra l'altro separarsi anche per poco dal resto della brigata per ficcarsi di soppiatto nello studio e provare a scrivere mi farebbe subito sentire in colpa come si fosse degli evasi che lasciano in cella gli altri detenuti senza avvisarli di una fuga imminente di un'uscita sicura ma in particolare lo spirito più che i fastidi esterni essere sinceri è proprio la testa il problema la mente che soffre tutta questa distrazione scrivere senza nel mentre uscire senza senza passeggiare senza anticipare le idee a qualche amico senza pensare che le cose che si scrivono possono interessare a qualcun altro ognuno c'è i suoi guai non lo sono non ci sono abituato oltre ai rumori come dire indigeni prodotti nella nostra fabbrica impazzita ci sono poi le intrusioni dei nostri vicini di casa appertutto più livelli siamo davvero accerchiati raramente si percepiscono se ci sono i loro affetti carezze baci sospiri più facile imbattersi in quella fase delle discussioni in cui gli argomenti si sono esauriti sempre gli stessi poi riterati in questo tempo senza sfoghi e non si può che passare agli insulti alle porte sbattute con forza e soprattutto per evitare lesioni nei corpi familiari a lancio in aria con conseguente rottura di un certo numero di oggetti solitamente i più fragorosi speriamo che le loro scorte di stovigli e bicchieri finiscano prima che i decreti ministeriali autorizzino i negozi di articoli casalinghi a riaprire le saracinesche le finestre ogni tanto vengono spalancate su strade che ora nonostante la bassa frequenza di passanti automobilisti sembrano più rumorose di un tempo adesso un colpo di tosse lontano o uno starnuto sperduto per la via fanno l'effetto di un bombardamento a tappeto che costringe immediatamente tutta la famiglia a ricoverarsi in bagno a porta chiusa con quattro musi otto mani immersi dentro lo stesso lavandino e nella mente il dubbio enorme il desiderio di sapere se lo sciame di virus non sia per caso esperto anche da arrampicate se sia cioè capace di scalare quattro piani ultimare l'assedio e invadere la casa che a quel punto sarebbe costretta a rendersi all'infezione per fortuna c'è un terrazzo un terrazzino in cui quando fa bello si riversano tutte le nostre pulsioni più infantili le solite corse sfrenate ma almeno più larghe e spaziose con sovrappiù di slanci balzi a volte nei più arditi di capitomboli e salti mortali la preghiera della sera è sempre rivolta al dio sole torna torna anche domani sul nostro terrazzo torna e riportaci l'aperto il terrazzo di questi tempi è la vita i bambini che già i primi giorni lo definivano il giardino recentemente l'hanno ribattezzato il parco tra qualche settimana se non si arrestano i contagi lo chiameranno senza scampo il mondo insomma si comincia un po tutti a sragionare a dare i nomi un delirio di cui forse anche prima eravamo capaci ma che non riuscivamo a realizzare così bene per questo ripeto sembra impossibile per me adesso scrivere qualcosa di sensato sto sospeso e che altro posso fare col cervello sotto ghiaccio penso soltanto a correre a saltare penso ad acciuffare i monellacci quando proprio l'hanno fatta grossa o a scappare quando mi inseguono per vendicarsi a darmi le botte di santa ragione e aspetto di riprendere al più presto con la gioia necessaria le cose a cui stavo lavorando se poi dovesse arrivare nell'occhio del ciclone di questa casa di bambini e di uragani un'illuminazione un piccolo racconto che possa andare bene per il decamerino senza pensarci un attimo d'un fiato senza maschere potete stare certi che ve lo manderei sperando la mia voce vi tocchi da lontano grazie a tutti